GF Vip, Luca e Ivana, clamorosa rivelazione sulla fuga damore VinZuiden Gossip Grande Fratello Vip, Ivana e Luca innamorati dopo il reality. Ecco la verità. Ivana Mrazova e Cancelletto Luca Onestini innamorati dopo la finale del Grande Fratello Vip, video? E questa lultima chicca di gossip che emerge in queste ore sui due concorrenti dellultima edizione del reality show Mediaset condotto da Hilary Blasi. A quanto pare, infatti, Ivana e Luca hanno capito che tra loro cè un buon feeling e avrebbero intenzione di portare avanti questa conoscenza anche adesso che sono entrambi fuori dalla casa del GF Vip. Cosè successo nel dettaglio? Ecco tutto quello che cè da sapere. Cosè successo tra Luca e Ivana dopo la finalissima?. Le gossip news di queste ore sul GFV privelano che Luca e Ivana sono stati paparazzati insieme in quella che sembrerebbe una vera e propria fuga damore post finale del reality show. I due, infatti, sono stati visti mentre si allontanavano insieme dopo aver partecipato alla registrazione della puntata speciale di Verissimo che vedremo in onda proprio oggi pomeriggio dalle 16 in poi su Canale 5. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del reality show, visto che per la prima volta ci saranno in studio tutti i finalisti di questanno per la prima intervista post finalissima di lunedì scorso. Ed è proprio avverissimo che la bella Ivana confesserà di aver troncato la sua relazione con il presunto fidanzato che la stava aspettando fuori dalla casa di Cinecittà. La Marazzova, infatti, aveva sempre sostenuto di non volersi sbilanciare più di tanto perché era impegnata sentimentalmente con un uomo che la stava aspettando fuori, ma a quanto pare questa relazione è già giunta al termine, complice anche il fatto che il ragazzo non si è mai fatto vivo nel corso di queste settimane. Luca e Ivana dopo il GF VIP, fuga d'amore? Ed ecco allora che Ivana ha cominciato a vivere in maniera diversa la sua relazione con Luca Onestini, dopo la registrazione di Verissimo i due si sarebbero lasciati andare ad una vera e propria fuga d'amore insieme, così come raccontano le persone che erano presenti in quel locale in Milano e che hanno avuto modo di vedere che i due sono andati via insieme. Cosa sarà successo tra Luca e Ivana? Video, possibile che i due protagonisti di questo GF VIP abbiano trascorso insieme la notte? Un'ipotesi che non va esclusa visto il grande feeling che c'è tra di loro. Intanto sui social i due protagonisti di questo flirt post GF VIP preferiscono ancora non commentare le indiscrezioni che sono emerse in queste ore sul web.